wow ragazzi e bentornati eccoci qui con il rapporto di stato casa base del 3 settembre 2020 allora finalmente è arrivato il fatidico giorno quindi andiamo a leggere il rapporto di stato casa base insieme e vedremo le novità che ci si prospettano salve comandanti come ogni anno è giunto quel periodo in cui corrida di casa base si fanno un po spettrali prendete le vostre zucche cesti per i dolcetti e divertiamoci con gli spaventosi festeggiamenti di quest'anno i contenuti di fortnite l'incubo riemergono dal loro sonno profondo il 20 novembre questa settimana fortnite l'incubo ritorna in questa stagione abbiamo il ritorno dei dungeon è il momento di combattere mostri evitare trappole prepararvi addentrarvi per affrontare il male che ci si celano e le profondità chiavi magiche un labirinto profondo e oscuro monete d'oro pare proprio che sia ora di esplorare complete dungeon per sbloccare eroi dolciumi una schermata di caricamento e molto altro ancora i dungeon saranno disponibili dal 4 settembre alle 2 ora italiana quindi quando guarderete questo video saranno già usciti l'ascesa del cavaliere di palude un eroe misterioso col vantaggio delizia ultraterrena che li dà sopravvento sui mostri della nebbia i suoi vantaggi sono aumenta i danni contro i mostri della nebbia fino al 42 per cento in base alla percentuale della salute mancante e come comandante in più inoltre subire un danno al 45 per cento di probabilità di evocare un fantasma che colpisce un nemico vicino infliggendo 62 danni energetici base nel raggio di 0,5 unità con recupero di 1,5 secondi disponibile dopo aver completato gli incarichi dei dungeon quindi il cavaliere di palude sarà ottenibile semplicemente tramite incarico ken il mostro marino ritorna dagli abissi un maestro della mischia d'acqua dolce con un vantaggio dagli abissi che infligge danni devastanti nel combattimento ravvicinato i suoi vantaggi aumentano i danni da mischia fino al 44 per cento in base alla percentuale della salute mancante inoltre come comandante le eliminazioni con attacchi pesanti in mischia hanno il 60 per cento di probabilità di evocare un fantasma che colpisce un nemico vicino infliggendo 62 danni energetici base nel raggio di 0,5 unità con recupero di 1,5 secondi lo stesso identico tipo di fantasma che abbiamo anche sul cavaliere di palude soltanto che sul cavaliere di palude si attiva quando noi subiamo danno mentre qui nel combattimento in mischia o meglio con le eliminazioni in mischia ken il mostro marino sarà disponibile anch'esso dopo aver completato gli incarichi dei dungeon attenzione poi ritornerà ragnarok i suoi vantaggi impatto sismico torna al suo punto d'origine riducendo i danni e impatto del 25 per cento però mentre come comandante impatto sismico torna al suo punto d'origine aumentando danni e impatto del 125 per cento a ragnarok è anche legato al vantaggio squadra vaccipiano immobilizza gli attaccanti in mischia per due secondi cioè quando verrete attaccati dagli zombie semplicemente si congeleranno mentre i mostri della nebbia non verranno congelati ma semplicemente rallentati del 43 per cento ragnarok sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 5 settembre alle 2 poi attenzione ritornano i lama fortnite l'incubo pieno fino all'orlo di eroi e armi stregate costeranno 500 biglietti dolciumi anche i lama saranno disponibili dal 4 settembre alle 2 ora italiana quindi saranno già disponibili nel momento in cui voi guarderete questo video è il turno del lancia halloween aggiungete un po di pepe al vostro arsenale con il lancia halloween sbloccate questo progetto festivo inserendo tre supersiti leggendari del concorso di costumi partecipanti all'interno di slot nel registro raccolta quindi come ogni anno per ottenere il lancia halloween dovrete semplicemente inserire i supersiti nel registro raccolta come state vedendo precisamente nel video tornate la prossima settimana per ulteriori dettagli agghiaccianti su fortnite l'incubo e la prossima stagione ventura quindi per ora è tutto ragazzi abbiamo il rapporto di stato casa base si ci dicono più o meno quello che ci si prospetta però come avrete notato in questo rapporto di stato casa base non sono menzionate le venture non una singola parola sulle venture non una singola parola sui bug sui vari cambiamenti che effettueranno nel gioco deduco che comunque quelli dovremo scoprirceli da noi e niente ragazzi il rapporto purtroppo finisce qui niente di tutto ciò comunque è da farsi scappare il lancia halloween beh diciamo che tra tutti è forse l'arma più mediocre che possiamo ottenere più rara che forte ecco è un'arma mediocre appunto non è né troppo forte né troppo debole è di fuoco insomma un pezzo da collezione direi io ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro mi raccomando non fatevi scappare gli eroi soprattutto in questa stagione e soprattutto rimanete sintonizzati sul canale perché sicuramente vedremo le novità sulle venture insieme e chissà quali altre cose il mio consiglio è sempre quello di attivare la campanella da chino è tutto noi ci vediamo alla prossima bella bella